Torniamo ad occuparci dell'incidente di ieri mattina al porto di Pescara dove una gru della draga si è spezzata. Sono ancora in corso accertamenti, il punto della situazione tra inchiesta, accertamenti per la verità e la ripresa dei lavori del dragaggio. In diretta abbiamo proprio dalla banchina del porto la nostra Antonella Micolitti per le ultime novità. A te Antonella. Buongiorno Luca, buongiorno ai telespettatori di Reteotto. Si è detto bene, siamo con la telecamera di Andrea Berardinelli sulla banchina sud del porto canale di Pescara dove ieri si è verificato questo incidente. Il braccio della gru della draga che si è spezzato e possiamo vederlo proprio nelle immagini dietro di noi. Mentre stava effettuando dei lavori lungo la banchina sud per rimuovere le sabbie e i fanghi e per permettere alle imbarcazioni di poter ormeggiare in sicurezza. Sebbene i lavori, come potete immaginare, sono stati subito sospesi. C'è da dire che fortunatamente nessun componente dell'equipaggio e nessuna persona è rimasta ferita e questa è una buona notizia. E che naturalmente la guardia costiera sarà in grado di fornire tutti i rilievi del caso e soprattutto le cause che hanno portato all'accedimento del braccio della gru. Per il momento, state vedendo, si sta cercando di mettere in sicurezza la banchina. Nonostante tutto però, Luca, il comandante della direzione marittima di Pescara, De Carolis, che abbiamo ascoltato, si dice fiducioso e ha detto al nostro microfono, la ditta stava lavorando bene, eravamo a metà dell'opera. Purtroppo c'è stato questo incidente ma nel giro di dieci giorni i lavori qui sulla banchina sud del porto canale di Pescara potranno ripartire. Se tu vuoi possiamo ascoltare lo stralcio dell'intervista al comandante della direzione marittima che tra l'altro ha fatto un cenno anche alla realizzazione e al completamento del nuovo porto di Pescara. Sì, in effetti i lavori stavano andando davvero bene. La ditta stava lavorando, sta lavorando in maniera attenta, in maniera molto puntuale. Purtroppo c'è stato questo piccolo inconveniente. In pratica ha ceduto il braccio della gru. Si tratta di una gru che è al servizio dell'unità, quindi non è collegata direttamente al bordo. Si spera anche, siamo in contatto con l'impresa che sta eseguendo i lavori e credo che i tempi sarà una settimana di giorni per riprenderli. Ci sono più possibilità. La possibilità potrebbe essere l'intervento di una ditta in subappalto, però si spera magari il noleggio di una gru da parte dell'impresa affinché i lavori possano proseguire con questa impresa. Naturalmente voi state facendo delle indagini per capire le cause, ma secondo la sua esperienza cosa potrebbe essere accaduto? La gru, già in fase di arrivo, sono stati verificati tutti i documenti. Era collaudata in maniera regolare. Ora, in questa fase ci stiamo preoccupando più di liberare la banchina, quindi di recuperare il braccio, di recuperare la benna. Successivamente sarà dato spazio alla parte d'inchiesta, grazie anche all'intervento dei tecnici del RINA. E poi si passerà alla banchina nord per quel che riguarda il dragaggio. Sì, gli impegni sono stati presi con la marineria. E per quanto riguarda il completamento del nuovo porto? L'11 di aprile c'è stato un importante confronto a livello istituzionale direttamente a Roma con il sottosegretario. L'impegno da parte di tutti è di proseguire, di portare a termine questi lavori perché la città di Pescara merita un porto che abbia credibilità. In futuro potrebbero tornare anche i collegamenti con l'altra sfonda dell'Adriatico? Si spera, si spera che ora stiamo lavorando per tenere vivo quello che è l'economia che rimane, che è la parte peschereccia. E si lavorerà per dare, ripeto, credibilità, per dare operatività al porto e magari riprendendo anche il traffico con l'altra sfonda. Ecco Antonella, prima di salutarci so che hai tastato anche il polso della marineria. Si dice preoccupata. Com'è l'umore? Beh, certo c'è amarezza nella marineria. Qualcuno srammatizza dicendo un dragaggio maledetto, non c'è pace per il dragaggio di Pescara. Ieri abbiamo ascoltato al telefono il presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, Francesco Scordella, che spera in una soluzione positiva. Nello speciale di questa sera manderemo in onda anche l'intervista all'ex presidente degli armatori Mimmo Grosso, il quale dice speriamo non ci si metta la burocrazia e sottolinea come si dovrebbe fare come un tempo, cioè un dragaggio continuo superficiale del fiume per eliminare il limo proveniente dalla montagna. La buona notizia, come avete sentito, la speranza è quella che entro due anni Pescara possa avere finalmente un porto degno di una città che vive di mare e di fiume. Dopo il taglio della diga si procederà al prolungamento della Molo Nord e speriamo davvero che possa andare in porto, il porto, e scusate il gioco di parole. Per il momento è tutto, mentre vedete alle mie spalle come i lavori continuano per cercare di mettere in sicurezza la banchina e rimuovere il pezzo di gru che si è spezzato, ricordiamolo, non ci sono stati fortunatamente feriti e come ha detto il comandante, lo speriamo tutti, i lavori per il dragaggio dovrebbero riprendere entro una decina di giorni. Da Pescara è tutto, a te la linea. Grazie, grazie Antonella Micoliti, come avete sentito oltre al servizio dell'edizione delle 19.30 un ampio speciale questa sera.